salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi torniamo a volare col dji fpv è uno dei miei droni preferiti perché trasmette e ci dà emozioni di volo veramente ragazzi pazzesche a me da un gusto incredibile nell'utilizzarlo e oggi l'ho portato in una location incredibile diciamo che questo tipo di volo è da un po che lo voglio fare stavo aspettando il giorno giusto per farlo soprattutto dal punto di vista meteo che non ci sia neanche un po di vento che non ci sia troppa foschia quando si sale verso la cima della montagna quindi è stato sempre difficile trovare il giorno ideale ovviamente poi associandolo alla possibilità mia di venire a farlo oggi finalmente è arrivato quel giorno e lo attendevo da tantissimo tempo e probabilmente dal punto di vista della scarica di adrenalina e dal punto di vista delle emozioni nel farlo forse quello che di più in assoluto mi ha trasmesso tutto questo quindi ragazzi detto tutto questo se il video dovesse piacere vi dovesse trasmettere le emozioni che ho provato io lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità spoiler di dove vado a far volare i droni era arrivato lo spoiler ovviamente anche di questo video spoiler dei prodotti che arriveranno sul canale sempre se vi va iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale vi ho posto tantissimi coupon sconto riguardante i droni e tutta la tecnologia in generale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere neanche un video un volo una recensione un test tutorial o novità ma adesso mettetevi comodi risoluzioni di youtube al massimo e decolliamo grazie a tutti 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 ragazzi è stato epico da paura da paura era tantissimo che ci volevo andare e oggi è arrivato il giorno giusto per andarci ragazzi top grazie a tutti Grazie a tutti.